Ho convocato una direzione del partito per iniziare la mobilitazione, la chiamata alle armi per aiutare il nostro partito, aiutare il nostro territorio. Io ritengo che oggi il nostro partito, il Partito Democratico, rimane l'unico partito che abbia la capacità e la possibilità di poter far emergere il territorio dalle secche in cui si trova. Da qui si partirà, faremo una roadmap nei prossimi giorni, oggi inizeremo con la direzione, nelle prossime settimane, nei prossimi giorni sarà convocata l'assemblea degli iscritti, ci saranno le varie consulte dei sindaci, degli amministratori, dei segretari di circolo. Quest'anno mai, forse come questa volta, le elezioni sono davvero un grosso punto interrogativo sulle elezioni. Questo grosso punto interrogativo sicuramente si riflette anche nella scelta dei candidati. La scelta dei candidati, da che mi ricordi, è sempre stata una fase molto delicata dove comunque, giustamente, cerca il Partito Nazionale insieme agli organi dei vari territori di mettere in campo le candidature migliori, quelle che non si riducono soltanto ad una questione prettamente numerica, ma anche che diano qualità, che diano sostanza poi al corso della legislatura. Quindi non numeri, ma cerchiamo di mettere in campo dei cervelli. Da cui mi ricordo, almeno per quanto riguarda il nostro partito, è sempre stato così. Non ho seguito la dichiarazione della Luccisano. Posso dire semplicemente che per chi ha lasciato il partito negli ultimi periodi, secondo me, non gli faccio una critica esagerata, ma semplicemente dico che in genere sempre chi lascia ha torto. E poi, guarda caso, lasciare a pochi giorni, a poche settimane dalle elezioni, quindi io non voglio fare considerazioni. Penso che le considerazioni poi le faranno gli elettori.